Mi chiamo Aleandro Masotto, abito a Verona e sono un ciclista per il T-Cobre Caballan. In famiglia siamo in cinque e c'è sempre per questa squadra anche il mio fratello Giulio Masotto. Il Palmaresse che per quest'anno ho fatto vari impiazzamenti, soprattutto tra i primi tre e i primi cinque posti. Sono un passista veloce e il mio obiettivo per il 2020 è quello di aiutare la squadra e anche di provare a vincere qualche bella corsa.